L'Università di Torino sbarca su Second Life. È il primo Ateneo italiano ad avere una sede virtuale. Benvenuti sull'isola di Second Life dell'Università degli Studi di Torino. Io sono Enrico, uno dei tutor che fornisce informazione agli studenti. Ora vi porterò a fare un giro per farvi vedere cosa si può trovare sull'isola di Unito. Gli studenti possono trovare un'area bar per socializzare, un'aulamagna multimediale ricca di video informativi, un'isola-laboratorio dove dare sfogo alla propria creatività con mostre e concorsi. E persino una ricostruzione di Palazzo Nuovo, la sede storica delle facoltà umanistiche. L'idea di Second Life è nata dal direttore del portale d'Ateneo, Angelo Sacca. È lui che ha pensato che l'Università di Torino potesse sbarcare come prima Università d'Italia su Second Life per offrire un servizio di informazione agli studenti. Sull'isola dell'Università le matricole discutono con avatar come Enrico, alter ego di studenti esperti che collaborano a progetto con l'Università. L'Università di Torino diciamo che sta facendo ricerca su questa cosa perché ha interesse a scoprire se questo nuovo programma funziona oppure no. Dunque un'iniziativa dal grande potenziale, solo in parte esplorato. Quando abbiamo fornito il servizio di informazioni sono stati diversi gli avatar che sono venuti sulle isole e sono venuti a contattarci. Ora siamo in una fase di riorganizzazione, quindi contattare i professori e le segreterie per cercare di invogliarli a essere presenti. Il prossimo obiettivo è fare in modo che tutte le facoltà dell'Ateneo abbiano i propri spazi virtuali, nei quali gli studenti possano sbrigare le pratiche burocratiche ma anche approfondire le materie di studio.